bella ragazzi prima del video mi raccomando fate un salto nel primo link in descrizione instant gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi ridicoli bundle di fortnite ricariche ps4 xbox e tanti tanti videogiochi instant gaming bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia oggi abbiamo un sacco di informazioni super incredibili relative ai prossimi giorni di fortnite parleremo ragazzi vi aggiornerò con un sacco di novità sull'evento di domani sabato 2 febbraio delle ore 20 l'evento di marshmallow in poche parole parleremo anche e vedremo delle immagini del nuovo quartiere in arrivo su fortnite e ragazzi l'ultima voce la più incredibile una strana luce è apparsa su fortnite vi faccio vedere un bel video vi ricordo però prima di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto mi raccomando la campanella attivatela per non perdere nessuna notifica dei miei video ma prima ragazzi la domanda e ve la devo fare la domanda dove mi raccomando i vostri commenti qui sotto sono importantissimi ed è una domanda facilissima qual è la fase che preferisci tra le due sappiamo che ieri abbiamo sbloccato il prigioniero con quattro sfide su sette e anche la prima fase che sarebbe la fase numero due in realtà qual è la vostra preferita beh ragazzi a me personalmente la seconda piace davvero tantissimo tra le due staremo a vedere quando sbloccheremo la numero 3 ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare di un post interessantissimo pubblicato sulla pagina twitter ufficiale da parte di eric williamson per chi non lo conoscesse è uno dei capoccia del team di epic games questo tweet ragazzi we have a change coming in 7.4 che sarebbe l'aggiornamento 7.4 di settimana prossima that should mitigate this in risposta a una lamentela da parte di un grosso youtuber che continuava a lamentarsi della mira assistita ragazzi dalla prossima settimana la mira assistita non sarà più così assistita speriamo davvero che ci siano dei fix abbastanza importanti per chi gioca nei server ad esempio mi capita a me per chi gioca ad esempio col pc ma col controller e quindi alla mira assistita noi che giochiamo con mouse e tastiera non abbiamo questo vantaggio grande bug o comunque non grande bug grande fix di questa cosa che non vedo l'ora di vedere ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua alle mie spalle lo stage che è stato ricreato da un utente sconosciuto nel web che va a rappresentare il palco di marshmallow in versione completa come vedete ragazzi questo è il palco che ci sarà parco pacifico per l'evento una coppia di casse giganti ai lati un palco davvero enorme e il mega logo di fortnite sopra là in alto ve lo ricordo il 2 febbraio alle ore 20 ci sarà l'evento e tra l'altro voglio darvi una bellissima notizia anche per me lo è stato questo signore darlington è uno di quelli affiliati a marshmallow adesso io non so bene se sia uno di quelli che gli ha prodotto la musica comunque è dentro il giro del mello ci garantisce e non è l'unico perché ho visto anche un altro post di una persona che lavora a stretto contatto con marshmallow che non ci saranno gli strike sembrerebbe che abbiano ritrattato con la casa di produzione appunto perché sapevano o meglio si sono resi conti conto che un sacco di youtuber avrebbero potuto portare su internet e su youtube l'evento ma è normale gente che stream quindi è the moment i don't want to confirm one way or another as i haven't been debriefed i don't i don't know that you're absolutely will not get strike non ti confermano al cento per cento la cosa ma comunque non ti strike hanno il canale e non ti mandano l'ammunizione vorrebbe dire secondo me che ti tolgono la monetizzazione qualora tu stai facendo una live o stai portando un video dell'evento niente di grave sembrerebbe tutto ok non te lo monetizzano chi se ne frega andiamo avanti ragazzi e questa invece un immagine presente nello store ufficiale di marshmallow quindi del suo sito internet e come non è l'unica ragazzi ce ne sono tante altre io vi mostro solo questa perché è molto interessante è la più interessante come vedete c'è un marshmallow stilizzato che scende con un deltaplano e quindi la domanda che tutti ci siamo fatti abbiamo visto lo spray abbiamo visto le mot abbiamo visto il piccone sappiamo che fra poco vi faccio vedere una skin in movimento ma il deltaplano beh ragazzi il deltaplano potrebbe davvero essere questo e questi file ce lo confermano come vedete siamo nei codici sorgenti del gioco e i file nella colonna di destra melo deploy il deploy è l'apertura del paracadute che si chiamerà melo quindi ragazzi sarà presente il paracadute in game non sappiamo in che modo perché neanche sappiamo se la skin ci verrà data oppure no ma ci sarà quindi ragazzi non vi preoccupate che arriverà andiamo avanti un secondo e vi faccio vedere anche le sfide del marshmallow che in realtà abbiamo già visto anche oggi visit è il poster poi devo andare a vedere e lo show time che sarà la visit la sfida di oggi di questo pomeriggio non so quando la facciano partire e l'ultima sfida us keep it melo quindi usa usare le motte del melo nel nel camion dell'oasi nel dove c'è il il nuovo coso dei gelati e nel lago ghiacciato non vi preoccupatevi dirò tutto a tempo debito vi faccio vedere molto velocemente ragazzi invece una cosa interessantissima che è porco giù da questo eccolo qua ed è un render della skin di marshmallow in un modo abbastanza strano perché tu sei così ve lo ingrandiamo tutto schermo che così lo vedete ragazzi così a caso a caso partita roba a caso va bene comunque il render di marshmallow di marshmallow che vedrete prestissimo allora mi soffermo su questa mappa visto che è partita prepotentemente senza neanche il preavviso ragazzi questo è uno spezzone di video che io stesso ho preso dal mio gioco e voglio farvi vedere una cosa questo è il drone ovviamente guardate che roba guardate che roba ci giriamo con la mappa teniamo alle spalle il nuovo quartiere puntiamo la montagna la davanti non la vedete ragazzi ancora non la state vedendo guardate guarda guarda in alto guarda 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 che della zoom guarda che della zoom guarda che della zoom ragazzi è apparsa una luce è apparsa una luce che non c'era assolutamente sulla montagna proprio oggi dopo che abbiamo fatto il mini aggiornamento ragazzi porco giuda porco giuda non è un caso ragazzi è qualcosa di incredibile ragazzi è qualcosa di incredibile come vedete lo vedete anche voi se andate nel replay ma basta che anche siate nella mappa riuscite già intravederla perché pulsa quando siete in game qua nel replay non pulsa ma in game fa questo effetto porco giuda non so che cosa dire ragazzi potrebbe essere un qualcosa magari di inerente alla skin un nuovo spiraglio di lava un nuovo vulcano non lo so ma qualcosa c'è ragazzi e sono molto contento di avervela fatta vedere andiamo avanti un secondo e vi mostro in chiusura il nuovo quartiere ragazzi questi sono stati trovati nei file dei codici cioè nei codici del gioco ed è proprio il nuovo quartiere che si chiama street festival quindi una festa appunto di strada come vedete non sono ancora formati il render è ancora molto molto abbozzato ma sono presenti nei file di gioco riusciamo a riconoscere una testa e qua vedete con il coso giallo e la bocca e dei palazzi che sono molto somiglianti a quelli di aprodo avventurato insomma ragazzi un sacco di news anche per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video porco giuda ditemi qua nei commenti cosa vi sembra quella luce lì ce l'ho qua la luce ce l'ho qua mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao